Che meraviglia questo castello, a far l'amore comincia tu, che bello che è, ma come si fa a vivere in un castello grande così? Farebbe un po' paura viverci proprio tutti i giorni. Ho sempre pensato che avere lo stesso stile sia una cosa giusta perché sei più riconoscibile, ma non è vero che il mio caschetto è sempre uguale, assolutamente no. Mi sono inventata, visto che ho una riproduzione di Piero della Francesca in casa, riproduzione ovviamente, ho detto guarda questo paggetto ha praticamente i capelli con una piccola coda dietro e così me li sono fatti tagliare in maniera diversa. Hai capito? Allora la cosa che mi annoia di più, speriamo che Pierpaolo Ferrari non si offenda, è fare le fotografie. L'ironia io credo che nella vita sia importantissima, ma è molto più importante sai cosa? L'autoironia. Con questo abito guarda, è una cosa un po' giapponese, che ne so, è una cosa così. Ma nello spettacolo, in questo mondo così magico, così strambo, l'importante è giocarci. Grazie. 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 Grazie a tutti.